ciao monica ciao siamo quel condomenico 5 4 3 2 allora domenico mi sta mostrando un abete bellissimo super rigoglioso maestoso l'istante dopo questo abete viene infestato da una miriade di parassiti a distanza vedo un demone che se la ride ti dà l'autorizzazione allora adesso domenico in eterico sta piangendo perché è saturo di questa situazione se ne vuole liberare e quindi fa sì con la testa e quindi fa sì con la testa come vuole intitolare la sua sessione domenico penso vita nuova ok e il nome del progetto allora lo dico prima in maniera magari civile urbana perché viene in maniera più scurrile chi vuoi che ti consideri si può sapere anche la versione originale chi ti si incula dovevo dirlo io e tu sei una signora rispettivamente scusate no tranquilla va bene vibrazione di domenico dai adesso in questo periodo va un pochino meglio intorno ai 5 miliardi consapevolezza è perché c'è questo tappo no questo proprio coperchio 158 ps 36 vite 2005 cervello 7 e mezzo ci sono interferenze c'è un alligatore un corvo e poi c'è un demone del secondo universo mi viene baltazzar che è quello là che rideva basta 4 edl entità mentale c'è anche un rospo e il rospo è legato al suo precedente lavoro anche l'alligatore posso dirlo domenico il presente lavoro nell'ambito il carcere quindi militare così sì no perché gli anfibioidi sono sempre guerra fonda i militari capi dei militari sono i guerra fonda e più che militare perché un tempo anche non decide non decidere non desiderare di fare la guerra il l'anfibio è fatto per quello mentali a me ne vengono tre no perché due sono impiegate in una e due edl sono impegnati in una virtus demoniaca bla 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 miopia ok virtus demoniaca fa proprio riferimento alla forza che questo demone collegato al discorso fattura riesce a avere ancora nella sua vita ed è così da tanti anni perché virtus virtus qua proprio virtus vuol dire non solo virtu ma anche forza potenza quindi in questo senso bla 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 come una specie di dispendio di parole che però non porta a nulla ok sia magari a volte i discorsi vengono fatti a lui da altre persone sembra che si debba arrivare ad un qualcosa di interessante e si conclude nel nulla oppure è lui stesso che si spende in diversi tipi di comunicazioni diciamo così magari anche per promuovere le sue attività però di nuovo c'è un nulla di fatto rimangono sospese queste parole parole volatili parole che non portano a delle conclusioni a dei risultati mi oppia questa è un'entità sua personale però è proprio un'entità collettiva la difficoltà di vedere da vicino la propria vita le proprie problematiche personali mentre invece ha una buona vista chiaramente sto sempre parlando da un punto di vista energetico non è che parlo della vista in sé per sé vista fisica però la vista da lontano quindi la capacità di vedere gli altri è buona ma non è buona la capacità di vedere le sue faccende personali da quel punto di vista lì è proprio miope impianti poiché non si è ancora liberato da questa fattura io gli impianti li vedo un po' pesanti perché vedo una corona di spine in testa e questo è l'impianto mentale proprio con queste spine sei conficcate nella testa e poi tipo un medaglione un catenaccio al collo arroventato che arriva giù fino al petto e poi dei chiodi mani e piedi che ricordano un po' sai la crocifissione il sacrificio di Gesù io ho la sensazione che Domenico potrebbe essere già sulla vetta dell'Everest e invece è lì ancora sul letto del fiume esatto esatto perché già rispetto alla sua prima sessione ha fatto due cambiamenti epocali no questo matrimonio che non aveva un senso e ha iniziato a dargli un attimo una regolata e e ha lasciato questo lavoro che non gli piaceva bassa vibrazione pur non trovando ancora la sua dimensione però rimane la fattura la fattura la fatta si dimmi e no dico è passato un anno e mezzo no dalla dalla sessione e di fatto è come se ha iniziato delle cose importanti però non ci sono ancora stati i risultati di queste scelte colpa fattura fattura e per esempio anche bla bla quindi questa roba che non arriva mai veramente a una conclusione rimane un po' tutto in sospeso quindi c'è la virtus demoniaca ma anche una certa miopia nel senso che per quanto riguarda le faccende personali è come se non avesse la vista chiara alla vista appannata sul da farsi delle proprie faccende a proposito non abbiamo visto i pesi delle entità mentali la virtus in passato è stata anche più intensa però io al momento la vedo che oscilla tra il 4 e il 5 bla 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 3 così come miopia ok io partirei da quello quindi penso che non sia proprio andato nel portale aureo chiamiamo il padre di sua moglie sai mi si presenta proprio come un maestro quindi con come si chiama scusami quella divisa tipica di chi fa arti marziali come dimmi no no adesso ce lo dice domenico il kimono è tipo un kimono esatto ecco con la cintura punto in tessuto e una barbetta così un po' lunga quindi l'aspetto è proprio tipico del maestro arriva così qual è il problema? il problema è che andiamo a vedere che cosa ha fatto andiamo sulla nostra macchina del tempo andiamo indietro nel tempo siamo in un anno in cui presumibilmente lui insegna arti marziali al giovane domenico 15 anni non lo so 15 anni una quindicina di anni e per qualche ragione lo elegge futuro marito di sua figlia un'altra quindicenne anzi forse dodicenne tredicenne undicenne e lo dice alla figlia questo lo scopre domenico dopo il matrimonio inquietandosi vediamo cosa ha fatto questo signore magia rossa ancora e forse anche nera allora aveva eletto domenico a suo allievo pupillo allievo prediletto con delle grandi dote lui le aveva individuate in domenico con un grande potere diciamo di mago da parte di domenico e altrettanto aveva visualizzato la propria figlia essere molto debole aveva profondamente indagato la natura della figlia e aveva capito proprio le sue difficoltà su più fronti a comprendere se stessa e a comprendere gli altri questa donna per esempio dovrebbe fare un profondo lavoro su di sé perché fa molta confusione con le persone fa molta confusione con i livelli fa confusione in diversi ambiti della sua vita avendo individuato questo uomo maestro punto fortissimo domenico punto molto debole la figlia ha pensato che fosse la cosa giusta unire questi due lui dice io sono il maestro io so quello che è giusto fare so come creare l'armonia tiro su lei e basso lui 3 che è un matrimonio felice che bella idea bella proprio un genio ricordiamo comunque che tutto questo l'ha voluto domenico e che in un certo senso avere una fattura tra i è una grande opportunità sì è vero lo posso proprio sottolineare un domenico è una grande opportunità e oggi è un gran giorno di festa quindi già inizia a confiare i palloncini perché oggi fai festa che oggi te la saluti con l'altra mano dov'è adesso il maestro gli piacciono i monasteri svolazzante lì là sì come se fosse una nuvoletta nera e svolazza ma non è un unico monastero come se gli piacesse andare a far visita a vari monasteri quindi sulla terra sì sì ma se è un maestro perché non è andato alla sorgente perché non sei reincarnato nel Dalai Lama futuro che lecca i bambini senti a me sembra che debba comprendere ancora delle cose finché non avviene questo tipo di comprensione non è possibile è come disincarnato dominato da interferenza se il secondo universo vuole delle informazioni mi sembra di sì sì diamoglielo come Vic è buono perché da quando Domenico ha iniziato a parlare io ho la nausea adesso che hai dato la Vic a quest'uomo mi si sta decisamente attenuando la sensazione è che lui anche si senta liberato perché aveva fatto proprio un patto con delle forze per riuscire ad ottenere questo tipo di obiettivo perché lui all'inizio aveva provato ad unire questi due ragazzi in maniera un po' più tra virgolette pulita però non funzionava non riusciva ad attecchire questa unione allora c'era andato giù più pesante per andare giù più pesante aveva chiesto ovviamente aveva invocato altre forze oscure del secondo universo pesantezza ma anche nella sua vita comunque come l'ha fatto andiamo a quel giorno quanti anni aveva domenico ci muoviamo su quella quantità cioè quel tempo lì insomma fine dei vent'anni cioè nel senso versi 30 alla fine dei 20 sui 29 sì sì lì lì è vicino al matrimonio alla fine per giù no mi fa prima mi dà così sul finale dei venti mi dice quindi non lo so che ha fatto era mattino pomeriggio sera era da solo o c'erano altre persone era a casa o era un collino da qualche altra parte allora per come mi risulta poi non so se ha solo un valore simbolico eterico ha avuto bisogno di un totale isolamento e anche di un luogo non abitudini solito per lui ok diverso dal solito no io vedo abbastanza in mezzo alla natura cioè al coperto che ha scelto un luogo al coperto ma che fondamentalmente era immerso nella natura questo luogo un grudere ecco bravo esatto con una cosa del genere sì sì un luogo abbandonato comunque però coperto le finestre a buchi sì 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 vista mare non lo riesco a vedere il mare sai vista natura alberi quello sì sì estate penso di sì sì ok e cosa fa vedo che ha dei libri con sé per se è tra virgolette anche un po' documentato non è che ha proprio fatto a spanne degli oggetti delle candele le vedo di sicuro capelli vedo di chi allora di lei sono sicura che sono di lui forse è solo un singolo capello sai mentre di lei vedo tipo una ciocchettina il colore delle candele allora queste che mi mostra sono rosse rosse scuro ci sono solo rosse la vedo per esempio anche bianca poi ce n'è una viola 5 quindi fa un pentacolo sì anche non so forse lui voleva che loro fossero in 5 poi in famiglia poi invece sono in 4 perché la fattura non è solo d'amore ma è anche di rovina o comunque di difficoltà economica non so non so se è collegata alla allora per come lo vedo io cioè il suo intento non era quello di portare male a questi ragazzi era però di risolvere le problematiche della figlia perché la figlia ha proprio confusione e debolezza nella sua personalità ok e di per sé lei si porta dietro tutti questi grovigli economici quindi la potenza di Domenico doveva in qualche modo secondo il suo intento andare a risanare tutte queste debolezze della figlia credo che sia giusta la cosa perché adesso ho di nuovo sto rigurgito qua di nausea e quindi lui non è che volesse di per sé capito tirare nella disgrazia Domenico non era questo l'intento era di portare nella sua testa un equilibrio ma non è stato possibile intanto perché né uno né l'altro volevano questo legame né la figlia né Domenico quindi non c'era un presupposto di amore non vedo neanche grande attrazione al di là del discorso amoroso e poi il punto è che il lavoro che doveva fare questa donna lo doveva fare lei non lo poteva fare Domenico ed è stato quindi un gran casino fare questo legamento forzato che ha quindi portato a un disastro maggiore economico per entrambi oltre che molta infelicità e vedo anche qualche disagio pure per i bambini ok il maestro lo chiamiamo che fa quindi adesso che stiamo rivivendo il rito ora che lui ha la Vic vibrazione informazione consapevolezza sa com'è il gioco sa che è un gioco sa ha visto tutto quello che è successo ha visto la cazzata che ha fatto che succede sta guardando quasi come se non l'avesse fatto lui con gli occhi sbarrati gli dirò di più lo può annullare lui ora nella linea temporale e il fatto non esiste modo più semplice in questo caso visto che allora qua non so come fare perché lui sai che cosa che si è proprio allora lui all'inizio ha voluto fare questo legamento come ti ho detto in maniera leggera pensando che funzionasse siccome poi non funzionava ha invocato queste forze del secondo universo e quindi lui ancora lo vedo legato purtroppo al secondo universo non so come poter non vuole annullare il fatto allora perché per annullare il fatto lui prima si dovrebbe svincolare dal secondo universo altrimenti non riesce a nullare il fatto ma allora non ha capito la cosa principale della Vic che lui è Dio che gestisce tutto che lui non è la ma sono ancora legato a lui è tutto secondo universo non è niente lui è tutto secondo universo non esiste lui esiste quindi non ha preso tutta la ricca ne ha preso un pochino secondo te è possibile agire in maniera diversa far diventare il protagonista Domenico perché io non riesco lo vedo bloccato questo era un tentativo altrimenti portiamo Domenico al rito sì perché già lo vedo che è lì è lì dentro questo rudere sai siamo all'inizio del rito Domenico è lì e il maestro lo vede sì ha iniziato ad accendere una prima candela e con questa prima candela che ha acceso deve accendere le altre ok Domenico la spegne lo guarda negli occhi e gli dice nego il consenso nego il consenso a quello che stai facendo non mi appartiene c'è una linea temporale in cui ho già fatto questa esperienza e non mi è piaciuta apro una nuova linea temporale in cui questa esperienza non avviene e Domenico ne godrà da oggi in poi sì perfetto è perfetto bravo 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 tu e bravo Domenico immaginate una linea verticale che va dal basso verso l'alto prima era verticale basta arrivava al giorno di oggi oggi fa come dire un come si può dire fa una curva a sinistra e poi si ricongiunge alla linea e una curva a destra e si ricongiunge alla linea soffia sulla candela e nego il consenso cosa fa il maestro? non ha più il consenso di Domenico che era un assenza cioè era un silenzio assenso eh sì dai bisogna dirlo adesso come fa? allora adesso vedo che intanto il libro inizia a disintegrarsi come se venisse mangiato dalle tarme diventa praticamente illeggibile quindi lui non può andare a leggere le formule che ha letto di fatto nel fare la fattura poi le candele che c'è Monica? beh è un po' sconquassante allora le candele è come se fossero diventate ignifughe diciamo così non si accendono no c'è vento? c'è vento? prima no no non c'era prima era tutto calmo è diventato un gran bordello che fa il maestro prendersene va che sia come sia la vita di mia figlia sì e vedo che gli chiede scusa cioè che si mette quasi in ginocchio rendendosi improvvisamente conto dell'enorme sciocchezza che stava per fare non so gli bacia una mano chiedendogli perdono ok non abbiamo fatto ancora nessun tipo di pulizia ma abbiamo fatto questo lavoro Virtus demoniaca esiste allora adesso per esempio è sceso a livello 1 mi indica come se nel momento in cui puliremo tutto il resto anche questa andrà via perché praticamente che cosa ha fatto questa qui è diventata un po' la calamità che ha attirato un po' le altre no quindi nel momento in cui andremo a ripulire a trattare le altre questa va a spegnersi del tutto anche lei bla 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 è sempre 3 ora 2 io via 1 ma c'è pazzesco eh comunque che Virtus fosse scesa 1 l'avevo visto perché sto posto va bene molto interessante dopo la prima sessione sogna l'ex dei suoi 19 anni la contatta la rivede inizia ha avuto una sensazione di perdita la contatta la rivede ma non è cosa causa esoterica allora dunque i suoi 19 anni no erano un momento importante per lui suo personalmente iniziava un momento di risveglio e di consapevolezza buono quindi in verità quando lui ha fatto quel sogno era soprattutto per contattare il se stesso eh di quando era giovane dove stavano sbocciando veramente delle consapevolezze importanti in maniera tra l'altro anche precoce no rispetto a tante altre persone ehm lui che cosa ha fatto essendo che lui anche a causa di tutto questo quadro molto pesante che abbiamo visto non ha creduto molto in sé non è riuscito a credere veramente fino in fondo in sé cosa ha pensato che questo eh sogno ehm aveva come protagonista centrale questa ragazza come se ehm non so come dirti la gioia la felicità potesse arrivare da ricongiungersi a lei in realtà la sostanza del sogno era affinché lui comprendesse che la gioia arriverà da lui nel momento in cui si ripulirà da tutto e ripulirsi da tutto significherà in un certo senso ritrovare quella purezza che per esempio aveva intorno ai 19 anni ma ovviamente adesso con una consapevolezza ancora maggiore no? perché ha vissuto esperienze grosse è molto bella l'espressione del viso di Domenico di tutta la sessione è come se se si riconoscesse in ogni sillaba incredibile è come se avesse sempre un sogginio di eh sì sì ma lo sapevo eh sì sì ma è così ma adesso ride va bene sono punti un po' così io li faccio tutti a quattro anni no a undici anni cade in uno scavo di quattro metri perché era un po' esagitato come ragazzino e una presenza lo protegge allora oddio lui è stato identificato correttamente dal suo maestro come un ragazzo con delle grandissime doti ed è così ed è sempre stato così ed è stato questo che l'ha sempre fatto sentire estremamente diverso e distante da tutto il suo contesto familiare culturale perché lui ha veramente delle qualità e delle potenzialità enormi che fanno sì quasi che lui sia di un'altra razza pur essendo assolutamente un umano nel momento in cui lui è caduto dentro questo buco diciamo così la sua PS gli ha dato la possibilità di sperimentare queste sue capacità queste sue potenzialità e lo so che è un po' strano dirlo ma a distanza quel maestro lì aveva visto questo evento e poi quando lui è andato a fare arti marziali questo maestro l'ha riconosciuto non so è un evento marker sì sì per sottolineare quali sono le sue incredibili potenzialità ma la presenza era il maestro che l'ha protetto allora il maestro mi viene fuori io credo che il maestro abbia visto questa cosa qui perché comunque io non posso negarlo questo maestro aveva dei poteri forti purtroppo li ha usati molto male l'ha visto lui ancora non aveva iniziato arti marziali perché io li vedo già connessi lui e il maestro però il maestro era già connesso cioè come se l'avesse visto a distanza individuato perché così speciale l'aveva già visto io no non credo che sia stato il maestro a proteggerlo credo che sia stata la sua ps che volesse che domenico iniziasse a conoscere se stesso ecco in questo suo essere speciale in questo suo essere diverso bene causa esoterica della passione per smodata per i bagni freddi a 19 anni che lo porta poi anche un episodio di ipotermia e a un forse correlato caso di ulcera gastrica ecco qua per esempio mi dà che sono eventi un po' drammatici però è sempre la ps che aiuta a comprendere delle cose lui lì non si era veramente ascoltato nel senso che si era documentato su questa cosa dei bagni freddi però secondo me non aveva tanto ascoltato dei segnali del suo corpo era andato un po' oltre perché probabilmente avendo letto che si faceva così lui faceva così così come aveva letto aveva anche 19 anni certo certo e quindi giustamente non aveva neanche così affinato la capacità di sentirsi quindi non si era ascoltato ed è andato decisamente verso un eccesso di questa tecnica e ovviamente ci sono stati degli esiti negativi perché è andato verso questo eccesso lui attualmente invece nel momento in cui sarà completamente pulito è in grado per esempio di riutilizzarla di nuovo se vuole questa tecnica traendone solo il beneficio perché saprà modularla la può studiare con i suoi anni insomma di esperienza e di buon senso centro meditazione aperto con delle amiche bella esperienza penso del passato no credo del passato che lui mi ricorda per cercare di capire analizzare quello che facevano in quel periodo sentivano erano in connessione d'amore con tutto anche con dei banali oggetti mi fa una scarpa dice le scarpe che indossi oggi sono contente di stare ai tuoi piedi in vento una forte connessione con tutto cosa era successo? ma allora dunque questo è come se lui ancora non fosse sotto l'influsso del tutto di questa fattura con la moglie forse erano i primi momenti o poco prima di frequentare quella che poi è diventata la moglie comunque lo vedo più libero ecco lui era libero quindi nella possibilità di poter esercitare i suoi poteri adesso abbiamo visto per esempio un cervello molto basso all'epoca era più alto cioè all'epoca in cui lui sentiva per esempio questa connessione io vedo che andava 11 13 vabbè sì però veramente gli è stato fatto un qualcosa di estremamente bloccante compressivo quindi lui era nel momento in cui stava fiorendo stava assolutamente era se stesso perciò che sentiva queste connessioni cose che torneranno ad essere vabbè poi proprio di finanziare della moglie un sacco di soldi e questo lo sappiamo ma insomma è il caso della moglie la moglie viene nel cinema con gli occhi chiusi così perché quasi non volesse guardare tutto questo pasticcio ma come ne esco adesso e poi si sente tutta fragile senza le forze necessarie i bambini e come un po' destrutturati vabbè sono ancora molto piccoli per cui è anche difficile dire delle cose sono proprio piccoli però me li fa vedere tanto si può fare ancora adesso creare le fondamenta a questi bambini perché in questo momento le vedo senza le fondamenta la la ex di quando aveva 19 anni no non c'è non viene no va ha detto mi preparo per andare in discoteca oggi però che non avrò più 19 anni ma la domanda non c'era ma io la faccio lo stesso le invitiamo se c'è nel cinema la fiamma allora mi da sicilia però a dirti il vero io non penso sia il suo momento ci vuole ancora un po' proprio lui posso dirti che la cambierà secondo me la cambierà so che sembra un po' assurdo dire c'è la fiamma ma la cambierà però io vedo che ci sarà la fiamma che io individuo è il momento presente però allo stesso tempo al momento presente vedo che domenico deve fare proprio delle robe sue deve anche proprio ripristinare non so come dirti il giro di conoscenze di amicizie mamma mia quanti cambiamenti che farà e quindi già questa fiamma qui poi dopo non andrà più bene bene e tra un po' sarà pronto va bene tante piccole attività dopo che ha lasciato la vecchia tutte bene nessuna eccezionale ma lui non piace massaggiare sta per rispondere comunque ho chiesto della fiamma ha smesso di respirare tipo non sapere più dove guardare prima sì ora non più io lo vedo portato cioè nel senso che poi proprio farebbe tanti soldi perché ha un tocco magico risolutivo allora adesso bisogna un attimino capire perché chiaramente le scelte sono tutte possibili se si ritro allora adesso dopo la pulizia lui può fare vari esperimenti perché è giusto che sia così lui adesso veramente dopo la pulizia si sorprenderà proprio di com'è e quindi potrà fare vari esperimenti varie attività e vedere in quali lui sta meglio cioè io vedo che se lui fa i massaggi guadagna tanti soldi però non deve essere questo il suo parametro ecco scrivere non è mai un'attività unica sì ma potrebbe cambiare genere forse non su quel filone che aveva fatto prima mi viene però sì sì e poi sai che non mi ricordo gli altri campi dimmi marketing forse sì la cosa particolare che stavamo dicendo prima che lui ha veramente tante potenzialità e quindi la cosa bella è che lui riesce proprio a andare da le cose un pochino più spirituali alle cose un pochino più materiali e gli riescono comunque bene non è detto che lui debba scegliere un'unica strada quindi sì può fare ok come lo vedi Domenico non so che si è tolto delle zavorre incredibili e poi il più bello come vedevi la fattura nel suo campo energetico come una specie di groviglio intorno a lui brutto respingente per cui quando c'erano gli eventi buoni non riuscivano a penetrare questo groviglio quindi solo non so come dirti un piccolo parte energetica di questo episodio buono arrivava a lui il grosso del buono rimaneva fuori proprio perché è tenuto a distanza da questo groviglio brutto che sembrano insieme di capelli di nodi e adesso c'è ancora no 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 completamente allora vedo solo un piccolo piccolo margine a sinistra nel suo campo eterico ok vediamo il suo corpo emozionale emozione a bassa ma anche a alta frequenza è come se avesse allora è buono perché gli sento questa liberazione questa gioia proprio che sta crescendo cose che si dissolvono però è come se avesse delle domande degli interrogativi profondi dove li ha qua sotto non so sotto le costole a sinistra chi sono io davvero vai chiediamolo la sua ps trova le risposte piano piano giorno dopo giorno lasciati sorprendere corpo fisico come lo vedi in buono stato questo veramente in buono stato sì corpo mentale alla fortuna di essere dotato di un'intelligenza incredibile fortuna si è scelto no un'intelligenza molto elevata andiamo al cluster allora delle accette vietate nel legno sì cosa fa non si si dà neanche la pena di estrarre le accette dal legno semplicemente con il pensiero riesce a dissolvere questa scena e questa energia che rimane dalla dissoluzione la conduce all'interno del portale definitivo come se già fosse molto pratico di questa azione ottimo qui che fa cosa lascia è quasi indeciso è come se avesse un arsenale di ad eternum tra cui scegliere è veramente molto fantasioso e quindi a sua disposizione una ampia scelta descrivimene qualcuno allora ce n'è uno fatto tipo come con tante bollicine colorate sembra quasi un po' in onore dei suoi bambini non lo so perché è un po' acquarellato di sapone sì così un altro un altro invece di fuoco come se fossero proprio allora anche questo sempre un po' spiraliforme come se fosse una specie di aspetta come si chiamano quelle che vengono forse utilizzate anche dai fabbri e sono queste lame non lame rotonde ma non con la superficie regolare ma come se ci fossero delle lastre che sembrano quasi infuocate non so come spiegarti no delle fiammelle e l'adeternum è fatto così di fuoco cioè sono dei carri di carnevale di adeternum con un tema no sì 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 poi sì poi questo per esempio me lo fa vedere come se fosse d'acqua e d'acqua però anche questo tipo a vortice in cui l'acqua vortica all'interno e diventa verde al centro fuori è chiaro bellissimo non li può mettere tutti sì 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 e dice e ne inventerò ancora di nuovi esatto ognuno è la giostra del Luna Park e lui mette un intero Luna Park di adeternum nel suo cluster scusami l'accetta legata alla fattura come era fatta era uguale alle altre o no solo vista intresa di sangue e di capelli era grande piccola allora era insidiosa perché era fatta con non so non so come dirti dei dei ganci che quindi non non l'avresti potuta estrarre mentre le altre se volevi potevi estrarle questa no lui non l'ha estratta l'ha buttata e basta esatto avatar c'era ancora qualcosa e c'era non mi è venuto l'avatar come lo vediamo abitualmente ma come il messaggio dell'avatar che era senso di colpa lo tiene no no lo butta si mette luna parte anche qui si 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 allegatore corvo demone baltazzar rospo 4 dl ci sono no assolutamente no virtus demoniaca che era scesa 1 c'è no bla bla 2 c'è no nemmeno miopia a 1 no il progetto che non ripeto nemmeno no via il titolo della nuova vita di domenico qual è a me viene rinascita è un'esplosione di colori di profumi di fiori ottimo il l'abete ha saltato dei parassiti c'è ancora sì ma è sano è forte è profumato è bellissimo nuova vibrazione 318 miliardi Ale nuova consapevolezza 203% anima 71 adesso vite 1014 cervello allora vedo che è in crescita era veramente tanto soppresso prima adesso mi fa vedere 9 e mezzo 10 10 e mezzo adesso 11 ok cervello tra un anno infatti cresce 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 con queste condizioni sì ecco questo è importante mi fa vedere 14 cervello cervello tra la quantità di tempo necessaria a che domenico trovi veramente la sua strada lavorativa lavorativa adesso lui mi dice 5 mesi poi chiaramente tutto relativo lo sappiamo che dipende dalle nostre costanti scelte e azioni e tra 5 mesi quanto starà? come cervello è 12 12 e mezzo insomma valori molto alti la colomba nella gabbia è uscita? sì vola? sì sì vola via come vedi l'anima di domenico adesso? espansa ovunque prima era veramente ingabbiata come dici tu grata per l'esperienza fattura? tantissimo perché? questa difficoltà l'ha aiutata ad espandersi ulteriormente a comprendere proprio la potenza che l'anima può sviluppare all'interno di un essere umano il punto in cui può arrivare oggi domenico con queste condizioni è più succulento, più avanti, più consapevole del punto in cui arriverebbe un domenico in un parallelo universo che non fa l'esperienza della fattura che non ha il maestro e che utilizza le sue capacità innate subito sì sì decisamente decisamente quindi non è indietro adesso domenico no ha nel serbatoio la benzina booster esatto che in un certo periodo gli farà recuperare il tempo perduto e poi gli permetterà di arrivare a un'isola in cui non sarebbe mai arrivato se non in quel modo proprio così esatto occhio e questa è una cosa importante questa è una cosa importante un po' puzza di cattolicesimo no? a diavoluto dire che è così che doveva essere no? è una grossa opportunità di crescita sì messaggio di domenico a se stesso grazie domenico finalmente sei tornato sono pronto a camminare nella vita senza chiodi senza zavorre sono pronta a uscire dai confini cioè bellissimo lo vedo proprio che si è proprio cambiato di abito se li toglie questi abiti ed è lui ed è se stesso ed è vero e ritorna a sentire quella connessione che sentiva un tempo la connessione con il tutto con ogni singolo elemento di questa terra ottimo abbiamo visto Pino all'inizio Pino ricorda il Natale dove vuole festeggiarlo la PS il Natale quest'anno non lo vuole festeggiare in famiglia non so dice non mi appartiene questa ritualità dove? nessuno si senta ferito è come se si scegliesse un luogo caldo perché tu mi parli di Natale ma io sento ancora caldo ottimo vibrazione finale 458 cioè sale sì ci sarà un limite quello che stabilirà lui all'occorrenza mano a mano prenderà confidenza con questo processo ok 5 di Ternum ma nel 5 corpi fisico emozionale scommetto che li mette tutti diversi mentale subliminale ed eterico un altro luna park di ad eternum sì 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 sono tutti diversi infatti c'è tanto colore tanta luce tanta fantasia c'è la spirale spesso sì sì ricorre molto messaggio che Domenico vuole lasciare sui bambini grande e piccolo vi voglio tanto bene sono un padre diverso forse dagli altri siete parte di me ma io sono anche parte di me e del tutto alla moglie oh mamma mia non mi fa ridere perché è come se usasse un linguaggio che potrebbe essere giusto per lei che allora da un certo punto di vista potrebbe sembrare un po' buffo però che va bene per lei il nostro percorso finisce qui e sembra quasi che lo dica all'interno di una trasmissione televisiva ok che mi si telefinita qui per te sì e anche proprio un riferimento adesso non posso fare ovviamente dei riferimenti precisi fiori ste cose ok per quello che li devi se domenico si lasciasse un fiore poi lui è un po' particolare perché è come se invece volesse lasciarmi del legno è un legno profumato e poi c'è sopra un po' di muschio lascia a te a te e a te cosa lascia una piccolissima margherita ok e a se stesso cosa lascia un fiore rosso tipo guzmania come lo vedi il fiore o domenico 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 scusa è come se lui avrebbe potuto mettere un fiore avrebbe potuto mettere un mobile avrebbe potuto mettere un cristallo perché in questo momento è davvero in connessione con tutto e capisce l'importanza di ogni cosa e con il suo abete iniziale cosa vuole fare? come se fosse parte di questo abete perché vedo che si avvicina all'abete e diventa parte integrante non è vero non è vero cioè perché ho visto questa cosa che lui entrava nell'abete si univa e l'albero è un po' un uomo con le braccia aperte no? non è vero che l'hai detto pazzesco pazzesco poi c'è tutto è stata una luce cioè che lui è proprio in sintonia completamente con la natura esatto bellissimo non ci credo che l'hai detto veramente mamma mia brava Monica bravi tutti bravo domenico bravissimo chiudiamo qua ciao ciao